Però l'ultimo disastro invece con cui vi volevo intrattenere, poi ho finito, è invece quello di cui avete sentito parlare. Cioè quello di Cernobil, che è avvenuto nell'86, anche questo di livello 7, fusione completa del nucleo, però molto peggiore di questo qui. E perché? Questo è Cernobil quando non è successo niente. Andiamo a vedere che reattore c'era, ma ha questa sigla che viene da delle parole russe, il suo problema è che è vecchio e inadatto. Dunque, è vecchio perché usa come moderatore blocchi di grafite e come raffreddatore acqua, cioè ha due sistemi diversi che si conciliano malissimo fra di loro. Poi è addirittura ancora meno adatto perché era stato pensato per scopi militari, come tutti i reattori russi di allora. Cioè serviva per produrre plutonio, il quale plutonio serviva per le bombe atomiche, termonucleari, eccetera. Il plutonio fra l'altro ha la piccola bazzicola che si dimezza in 24.000 anni. E poi ne volevano già che c'erano, tirare fuori un po' di energia elettrica e infatti ne tiravano fuori un po'. Il primo problema è come è stato pensato. Si rallentano i neutroni con grafite e ricordatevi, se uno perde, ah finisco, e si raffredda con acqua. Però anche l'acqua cattura neutroni, quindi anche l'acqua serve per diminuire il numero di neutroni, se volete per diminuire la benzina che arriva al motore dell'automobile. Se perdo l'acqua, questa cattura di neutroni non ce l'ho più, mentre invece la moderazione della grafite che rende i neutroni idonei per la reazione ce l'ho sempre. Avrò più neutroni che vengono resi idonei per la reazione, questo sarà un problema. Poi, pericoloso perché è instabile, proprio per quello che vi ho detto. L'acqua assorbe, avvelena i neutroni, cento volte più della grafite. Se l'acqua manca, la reazione accelera di colpo, più neutroni e sempre moderati, quindi efficace. Terzo difetto, pericoloso per esplosioni. In caso di incidente, la coppia acqua-grafite a alte temperature brucia, reagisce e fa composti esplosivi. Anche quelli, penso, non aiutino a tenere insieme un reattore. Quarto problema, le barre di controllo, quell'altro strumento che io dovrei avere per controllare questo mostro, che se no può impazzire, erano progettate male. Erano lenti a inserirsi, ci mettevano quasi mezzo minuto, quindi non erano pronte. Poi, la parte terminale, quella che si inseriva e cacciava l'acqua, si inseriva in canali dove c'era l'acqua, quindi cacciava l'acqua e entrava quella, per almeno un metro era in grafite, però succedeva che quando entrava, moderava quella parte lì, quindi aumentava i neutroni efficaci per fare la reazione. Ricordatevelo anche questo. Il primo metro faceva anche lei questo effetto. Più neutroni idonei per fare la reazione. Questo non era stato scritto sui manuali. Quindi anche quelli non sapevano tutto. L'esperimento che gli propongono qual è? Dice, senti, stacca tutto, stacca l'energia e vai a vedere se per inerzia il moto della turbina e del turbo alternatore, eccetera, genera l'energia elettrica necessaria, comunque per inerzia, anche se è staccato dalla rete, per continuare, in qualche modo, a raffreddare il nocciolo, nell'attesa che entrino i sistemi di emergenza, che avevano un tempo morto. Mi fai questo esperimento, stacchi tutto e vediamo se basta quel residuo di energia prodotto dall'inerzia del turbo alternatore. Ovvero, è possibile alimentare le pompe per il raffreddamento, grazie all'inerzia della turbina, fino all'avvio dei due generatori diesel di riserva? Dunque, l'esperimento era stato proposto a tutti i reattori russi, che più o meno erano simili. Nessuno l'aveva voluto fare, uno poi l'aveva fatto, l'aveva fatto con i crismi della sicurezza, e aveva dato risposta negativa. No, non è possibile che questo possa funzionare. Il direttore della centrale di Cernobil non era un nucleare, e proveniva dalle centrali termoelettriche. Quindi era un ingegnere elettrotecnico. Era stato messo a capo delle centrali di Cernobil per meriti di partito. Questo ve lo racconto, non ve lo scritto, ma lo so. Non solo, ma lui amava circondarsi dei suoi omologhi. Quindi cercava di trasferire a Cernobil persone, che avessero anche loro lavorato nell'ambito delle centrali termoelettriche. E quindi si era un po' circondato di quelli, anche. Non era comunque uno che aveva la sensibilità nucleare, che serviva alla guida di questo mostro. Non solo, era un ponte, un fine settimana, c'erano delle ferie, un ponte lungo, il quadro degli operai era ridotto, e accettarono di fare l'esperimento, e lo fecero anche durante un cambio di lavoro, per cui anche le informazioni se le passarono male. Bene, visti tutti i difetti, adesso vi spiego che cosa è successo. Loro staccano il turbogeneratore, che così va avanti per inerzia. però, attenzione, siccome l'altro esperimento con tutti i crismi aveva dato risultati negativi, noi diciamo, no, noi siamo più bravi, adesso facciamo vedere noi. E isolano il circuito di raffreddamento di emergenza, dicono, no, lo stacco. E questo è il primo errore, perché chiaramente agli altri non aveva permesso di fare più che tante robe. C'era lui, c'era l'emergenza che controllava il sistema. Secondo errore, non forse per colpa, ma per manutenzione, forse gli strumenti starati, abbassano la potenza del reattore troppo. Non se ne accorgono, non la portano molto bassa. Tant'è vero, 10 megawatt elettrici non sono sufficienti per la prova. Attenzione, qui mi fermo, eh. Se fosse stato un nucleare, il direttore interrompeva tutto. Perché? Quando questo tipo di reattori andava a bassa potenza, così bassa come per sbaglio l'andata, si avvelena, come si usa dire, di xeno 135. Questo qui è un assorbitore di neutroni. Quindi, attenzione, in questo momento la potenza li cala ancora, perché si sta formando quello. Li assorbe, non fanno le reazioni. Invece loro non vogliono fare la prova. Allora cosa dicono? Eh no, bisogna rialzare la potenza. E lo fanno a mano. Si cerca il recupero di potenza manualmente, perché sennò i sistemi non glielo avrebbero permesso, levando le barre. E ne lasciano 6 al posto delle 30 minime che da manuale dovevano stare dentro. Ricordatevi che questo è un reattore instabile verso il basso delle potenze, ve l'ho detto prima. E questo è l'errore numero 3 e numero 4. L'acqua ovviamente scalda tutto perché tirano su e forma vapore. Se forma vapore non è più acqua, non assorbe i neutroni, succede quell'effetto che vi dicevo io. La potenza salta ancora di più in alto. Fanno l'ultimo errore. Oramai è tutto caldo, non riescono a spengere più niente. Questa è la cosa più drammatica. Il limite era qua, guardate, dove c'è questa riga rossa. Loro fanno lo screm, cioè infilano tutte le barre dentro. Ma è troppo caldo oramai tutto il nucleo del reattore. Gli estensori in grafite entrano per un metro, in realtà le barre entrano per tre metri, sulle dieci che sono lunghe, e naturalmente aumentano ancora i neutroni, essendo moderati in grafite, che quindi li rallenta, che fanno la reazione. A questo punto è troppo caldo. Il calore dei forme canali, le barre non entrano più, la potenza sbalza cento volte, quella del reattore, non hanno più possibilità di fermare niente. questo è quello che succede. Butta fuori nei primi istanti, con le esplosioni, 20 milioni di curi, brucia ovviamente la grafite, reattore sprofonda di 4 metri, dentro ci sono 135 tonnellate di uranio, plutonio, reazione a catena continua e continuerà per secoli, almeno per molti anni. Brucia il 10% della grafite, i fumi vanno un chilometro sopra, i gas radioattivi girano per tutto il continente. Ecco perché vi ho fatto capire questa e ci rifletterete sugli errori. Però guardate, c'è stata anche una cosa, aver messo nel posto sbagliato la persona o le persone sbagliate e avere anche una tecnologia arretrata. L'urse si era chiusa in secola, guerra fredda, non aveva più gli scambi e volevano fare quello e quell'altro, il plutonio per le armi, le cose eccetera, e tutto questo non si poteva fare. Queste sono le mappe di radioattività da Cesio 137 in Italia, all'epoca, la parte più contaminata era quella del nord-est, come è ovvio, qui trovate le scale eccetera, ricordatevi che Cesio 137 è mia vita a 30 anni, nell'anno prossimo sono i 30, nell'anno prossimo è diventato la metà, ma non è sparito. E naturalmente da questo potete trarre i vostri insegnamenti. io ho mirato stavolta alla vostra esperienza futura, a quello che sarete chiamati a fare. Dovreste capire da tutto questo che le responsabilità sono a volte enormi, che al merito nell'occupare certe posizioni non si può transigere, non si possono mettere dei raccomandati o della gente incompetente in situazioni di alto rischio. Vi ho fatto l'esempio dell'energia nucleare da fissione come di una cosa che potrebbe anche essere utile e benefica, ma va saputa fare.